Centinaia di profumi con i marchi dei più noti brand della moda, per un valore totale di oltre 30.000 euro, sono stati sequestrati dal nucleo anti-abusivismo della Polizia Locale di Milano il 13 agosto scorso, a seguito di diverse operazioni condotte nei mercati della città. Grazie all'attività svolta, gli agenti sono arrivati alla perquisizione di un immobile nella zona di Bruzzano, dove, oltre ai profumi contraffatti posizionati su ripiani di mobili adibiti a banchi di esposizione per i clienti, sono stati ritrovati anche capi d'abbigliamento e occhiali da sole, tutti contraffatti, per un valore di mercato di oltre 10.000 euro. L'uomo che gestiva lo spazio di nazionalità egiziana con regolare permesso di soggiorno è stato denunciato. Dall'inizio dell'anno sono oltre 950.000 gli articoli sequestrati, amministrativamente o penalmente dal nucleo antiposivismo.